Alle stranezze di Paris Hilton ci abbiamo ormai fatto l'abitudine, eppure riesce sempre a trovare spazio nella nostra agenda del giorno e, proprio quando sembra che ne abbiamo viste tutte ma davvero tutte, spunta fuori con un acquisto alquanto singolare. Un rarissimo cucciolo di Pomeranian che si presume essere il più piccolo del mondo, ha levato nell'esclusivo centro di Calgary ed acquistato per la cifra astronomica di 13.000 dollari, circa 10.000 euro con il cambio attuale. Attualmente il profilo Instagram di Paris Hilton è praticamente dedicato tutto per questo cucciolo di 5 mesi, MR.Incredibile è questo il nome che la ricca ereditiera ha scelto per lui. Un cucciolo decisamente irresistibile, ma in questo caso la passione per gli animali di Paris Hilton sfocia forse nell'esibizionismo. Il cucciolo più piccolo del mondo, infatti, è uno sfizio, un vezzo decisamente esagerato e costoso. La droga trovata nel suo ranch Paris Hilton è stata di recente al centro di un caso di narcotraffico, dopo un maxi sequestro da parte della polizia costaricana di circa 400 kg di cocaina nel ranch di proprietà della famiglia Hilton. Rancorizzonte al cantone di Cagnas era lo snodo principale per un traffico di droga su cui veniva utilizzata la pista d'atterraggio degli Hilton e che ha visto implicato proprio uno degli impiegati a stipendio dalla famiglia di Paris che, con la stessa ereditiera, non ha nulla a che fare con questi traffici. Secondo quanto riportato dai media locali in realtà gli Hilton non si vedono molto spesso da quelle parti ed attualmente non sono sospettati di nessun illecito. Sono stati però richiamati per deporre una dichiarazione, mentre ancora sotto sequestro l'area utilizzata come pista d'atterraggio. Chi se ne frega. Chi se ne frega.